Tutti assolti, questo l'esito principale della sentenza di primo grado del processo Marlane pronunciata intorno alle 7.35 di sera nell'Aula Beccaria dal Presidente della Corte Domenico Introcaso. Assoluzione per tutti e 13 gli imputati nel processo per le morti bianche e per il disastro ambientale alla Marlane di Praia Mare con formula piena per tutti i reati. Il Presidente Introcaso ha disposto inoltre il dissequestro dei beni sequestrati nel corso delle indagini e nel corso del processo e ha fissato in 90 giorni il tempo entro il quale la Corte stessa renderà note le motivazioni di questa sentenza di primo grado. Ma è questo l'elemento principale di quello che è successo oggi al Tribunale di Paola, lo ripetiamo, nel processo Marlane i 13 imputati sono stati tutti assolti.